Il Sicomoro, esempio virtuoso di socialità nel Materano, arriva anche nel capoluogo di regione, lo fa nella casa che ospita degli anziani Raffaele Acerenza. Come si è giunti a questo nuovo capitolo? È veramente un nuovo capitolo, un capitolo di collaborazione in realtà fra Matera e Potenza. Abbiamo immaginato di costruire anche qui, insieme con le maestranze di Potenza, e quindi valorizzando anche le professionalità che sono qui presenti, un percorso che possa riprendere la tradizione della cooperativa Raffaele Acerenza, arricchirla però con nuove idee, soprattutto con un'innovazione generale del servizio e offrire alla città di Potenza un rinnovato servizio per l'assistenza agli anziani. La casa di riposo attualmente ha un'autorizzazione per 110 ospiti, al tempo stesso ci sono in questo momento impiegati 35 dipendenti, ai quali ovviamente noi dobbiamo dare una nuova organizzazione che probabilmente porterà un incremento anche sia dei servizi che sicuramente delle unità lavorative. L'8 dicembre riusciamo finalmente ad inaugurare questo cammino, insieme con il Vescovo Monsignor Ligorio celebriamo una Santa Messa e in coincidenza di questa data che è l'Immacolata avviamo questo cammino in collaborazione e con la struttura e con i colleghi che stanno prendendo in mano questa nuova dimensione operativa della cooperativa. Sicuramente è un compito arduo che però ho preso su di me pienamente anche perché so che dietro di me c'è il sicomoro che mi accompagnerà in questo cammino e mi aspetto soprattutto di creare un clima di fiducia con tutti gli operatori e soprattutto con le famiglie che affidano a noi i loro familiari sperando comunque che questa possa essere la loro casa e quindi è questo l'obiettivo del mio lavoro. Cercheremo di lavorare insieme ai dipendenti di questa struttura per una riqualificazione degli aspetti sociosanitari bisogna creare quell'ambiente familiare, farli trascorrere del tempo, mantenerli sempre attivi dal punto di vista mentale affinché si sentano sempre padroni di se stessi e quindi metterli proprio a loro agio.